E allora Leandro, ti è piaciuto? Ti è piaciuto come cucino? Sì, buonissimo, buonissimo! E ci credo, ti sei mangiato almeno tre piatti! Due piatti, due, ho visto due piatti! E mi sono resa conto, eh? Ti sei mangiati due piatti, anzi, erano tre piatti, perché ho fatto... Erano due piatti belli e abbondanti! Ma a casa tua ti danno da mangiare? Ma mangi a casa tua almeno, perché sembra che non mangi da una settimana, sembra che stai morendo di fame, che nessuno ti dà da mangiare, mamma mia! E' meglio vestirti, darte per comprare i vestiti, che darte da mangiare! Mazza, o quanto mangi de... Ma sto scherzando, sto scherzando! Vuoi un altro po'? Sì! Ma sul serio? Leandro, sul serio? Sì, ma era uno scherzo? Più o meno! Più o meno! Però vabbè, se vuoi un altro po', ti servo un altro po'. Grazie! Leandro, ma questo è l'ultimo piatto che ti mangi! Stai esagerando! Ok, ma poi c'è il dolce? No, il dolce non c'è! Il dolce te lo mangi a casa tua, perché adesso che hai finito di mangiare, che finisci di mangiare, vai a casa tua e fai la digestione là e il dolce te lo mangi a casa tua. E' mamma! Allora, amigai! Mamma mia!